Di questa ragazza, come ti chiami? Maria Angela Quanto stiamo? Ciao Maria Ho vissuto un grossissimo domande ultimamente Voglio sapere chi è il mio angelo Se c'è il mio angelo, o quanto bene In questo momento c'è qualcuno giovane E questo è molto delicato Forza? Sì, vuol dire Questo angelo ti dispiace Perché quando devi andare via Tu non sei cercato così Adore tu non hai capito così Perché? Cos'è successo? Lui non piace che vi angeli così Ecco Anche se senti il trucco Tu sei bella Tu sei il suo amore Tu sei bello Ok, posso continuare? Lui vive qua Ok E questo è del dolore Questo dolore non passa mai Ok Lui non piace la fotografia Brava Ok Lui vuole la fotografia Vuoi fare serie, non solo Perché lui non è stato solo Mai Ma fai così Lui dispiace perché è lasciata per farmi tutti i nuovi Per lui è una vita nuova Nuove esperienze Lui non è stata abbastanza per voi Allora, te lo cuore Tutto tutto Tu non hai fatto via E' preso perché gli energy non è fortissimo Maggio Ecco Perché sei bello Ok Tu possa fare qualsiasi cosa Lui è contento per questo Anche se vuoi cambiare la casa Lui Dove ha C'è una camera C'è qualcuna piccola? Sì Lui sempre faceva Lui? Lui sempre faceva questa piccola Difficile Con loro Ok Che parli? Che parli? Poi Poi Non so cosa dire Cosa so che Immagino Lui Lui Dove è il suo caldo del sole? Il mio caldo del sole dove? Il suo caldo del sole dove? Il mio caldo del sole Il mio caldo del sole In macchina Ogni tanto tu Mettere Ah è pronto È fatto bene È che il mio caldo del sole In macchina Non sto facendo Più quello che facevo io Per lui Ok Dico Non è importante Lui dispiace perché Amici Degli altri Non parlano Tu ti sai Perché? Non so perché Lui ha detto questo Per loro non dico Cosa è successo Tutti il silenzio Non capito perché Ma sto sul lavoro E sappiamo ancora tutto Che cosa sia successo Di effettivo E io mi sto battendo Per vedere qui Lo so se Se lui Tutto quello che è successo Cioè non abbiamo Niente in mano Cioè tutto Siamo Via Stai tranquilli Perché Stai tranquilli Perché vi ce l'ha Ok Stai tranquilli L'importante Tu lo sai Lui Con voi Ok Io sono la mamma sua Sì E io Volevo bene come un figlio Eh come no E a casa mia Non è più come prima E almeno mio figlio A casa siamo tutti distrutti A casa mia Come io direi È una cosa molto fresca Perché anche di energia Viene andando via Viene andando via Così Mi dispiace Perché Ma che messaggio Da parte lui Per me No Però c'è un messaggio D'una D'una Signora Lei con lui Secondo me L'era una mamma Sì Io sono la sua Sì La sua Io Non gli volevo Aspetta Non preoccupaci Siamo qui Ma con chi è lui Ma con chi è Guardi Io Non Sì Quando lo Mi mando messaggi Io parlo così Perché lui E' fatto con il suo pantalone Così E' questo D'unico La sua pantalona Così Lui 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 Con chi è Lui Con una signora Una signora Una signora La mamma Che la braccia Braccia in braccia Così Non è contento Perché L'aggia a voi C'è lei E' C'è la fa Perché Lui Lei Che la persona Che la persona Piccolo Che il padre Ha perso Quando era Era Dio Dio Le cose importanti In questo momento Forza Ok E' Lui Non capire Perché I miei cedi Non parlano Tutti Sarese E cosa Posso fare Cosa Dio Combatti Grazie Grazie Sì Sì Cerchiamo di avere un bicchiere d'acqua Anche se Mi stanno dicendo Che per forza Di causa maggiore Dobbiamo davvero Chiudere E terminare Anche perché Dopo segue Una buffet Se non ero sopra In terrazza Verto proprio Da caminiti E da tutto lo staff Allora Se c'è qualcosa Di mirato Gentilmente Non la solita domanda Se ci mangio La tardo Non posso Dobbiamo Signora Ficala Io Ci dobbiamo Chiudere Quindi Facciamo Se posso Udgir Se non c'è C'è un'altra E Poi C'è un'altra E C'è un'altra 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 C'è un'altra